Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, continuano gli episodi di aggressioni a minorenni, in questo caso è successo in Viale Michelangelo, anche lo stesso aggressore è stato poi rilevato dalle forze dell'ordine essere un minorenne. Sentiamo. Una rapina nel primo pomeriggio, un minore è stato avvicinato da un coetaneo e sotto la minaccia di un coltello gli è stato chiesto del denaro. La vicenda, come riportato dalla TGR Toscana, si è consumata nel primissimo pomeriggio del 18 gennaio ai giardini del Porcinai in Viale Michelangelo in pieno centro ad Arezzo. Tutto sarebbe accaduto poco dopo l'uscita da scuola. Prima il coetaneo gli avrebbe chiesto qualche spicciolo, poi, vista la risposta negativa del ragazzo, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe minacciato per farsi consegnare 20 euro. Sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti della Polizia di Stato. L'adolescente avrebbe subito descritto il suo aggressore, indicando abiti e cappello che indossava, fornendo dunque elementi utili agli investigatori. In poco tempo, infatti, le forze dell'ordine lo hanno rintracciato e fermato. L'aggressore è stato arrestato e adesso si trova in una comunità per minori in provincia di Firenze, in attesa della convalida dell'arresto. Non sarebbe stato l'unico episodio del pomeriggio del 18 gennaio, ma su questo stanno indagando gli inquirenti. E c'è il daspo urbano per il 17enne che aveva fatto letteralmente il diavolo a quattro a Sansepolcro, lo ricorderete, con importanti danneggiamenti agli esercizi commerciali. Era la notte tra sabato e domenica, quando, dopo aver trascorso una serata in un locale di Sansepolcro, si era accaneto sugli arredi del centro cittadino, vandalizzato alcuni vasi in ceramica, danneggiato cartelloni e ribaltato bidoni, lasciandosi alle spalle uno scenario apocalittico. Numerose le segnalazioni dei cittadini, sgomenti per ciò che stava accadendo in pieno centro storico. Adesso, per il 17enne, che era stato rintracciato alle prime luci dell'alba dai carabinieri in forte stato di ebrezza alcolica, è scattato il daspo urbano. La divisione anticrimine della questura, diretta dal vicequestore Claudia Famà, ha raccolto infatti gli atti riferiti all'episodio e dalla disamina è emerso chiaramente che le condotte potessero costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Così, per la durata di un anno, in base al provvedimento, il minorenne non potrà avere accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento che si trovano nel centro storico di Sansepolcro e nemmeno fermarsi o sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Arrestato dal carabinieri che aveva appena spintonato e gettato a terra a finire nei guai, è stato un trentenne albanese residente a Sansepolcro, firmato dai carabinieri in evidente stato di ebrezza alcolica, alla richiesta di documenti e di sottoporsi all'alcol test, ha dato in escandescenze, prendendosela appunto anche con un carabiniere, lo ha spintonato e l'ha fatto cadere a terra. Per lui sono scattate le manette, dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e guida in stato di ebrezza alcolica. E sono tre le persone denunciate durante i controlli effettuati dai carabinieri di Cortona nelle strade principali della Val di Chiana. In questo caso le persone sono state fermate a Foiano della Chiana, Monte Sanzavino e Lucignano, tutte per guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Quattro poi le patenti ritirate. Torniamo sulla vicenda Coingas perché c'è stato un risvolto giudiziario importante. Assolto in appello a Firenze l'avvocato Jacopo Bigiarini, ribaltata così la sentenza di primo grado che lo aveva condannato con rito abbreviato ad un anno e quattro mesi. Un colpo di scena nel caso Coingas. Il fatto infatti per i giudici fiorentini non costituisce reato. Bigiarini era indagato per concorso nel peculato in relazione ad una delle consulenze affidate da Coingas allo studio legale Olivetti Rason di Firenze e finita nel mirino degli inquirenti. Per quella stessa consulenza erano stati condannati anche l'ex amministratore legale fiorentino Olivetti Rason che ha presentato appello. I giudici fiorentini adesso non avrebbero ravvisato profili penali nelle condotte di Bigiarini che ha restituito i 14.000 euro della consulenza e ha sostenuto che non sarebbe stato a conoscenza di una manovra sottostante all'incarico, ossia il flusso di denaro di Coingas verso lo studio Olivetti Rason senza una reale giustificazione secondo l'accusa. Sul processo principale di Coingas invece si attende alla fissazione dell'appello. E adesso invece parliamo di meteo perché è davvero un inverno, almeno per adesso, anomalo. Sotto il profilo delle temperature la colonnina di Mercurio ha sfiorato i 19 gradi nell'aretino nelle scorse ore. La punta si è toccata proprio nel giorno del 18 gennaio con 18,7 gradi a Montevarchi. Questi sono i dati diffusi da Arezzo Meteo che dice, per bocca di Lorenzo Sestini, superato anche il record del gennaio 1994 che fu particolarmente caldo. Intanto però per le prossime ore la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per vento con validità fino alle 19 appunto di tutta la giornata del 20 gennaio che interessa tutta la zona centro-meridionale, inclusa la costa della Toscana. Due milioni e mezzo di euro per scuole nuove e più sicure in Toscana. Una parte consistente di questi finanziamenti saranno destinati all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, al centro delle cronache anche negli ultimi giorni, soprattutto chiuso dallo scorso settembre dopo due crolli che appunto si erano verificati. Tra l'altro l'Istituto riaprirà il prossimo 29 gennaio. Quasi 500 milioni per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni. Il finanziamento è arrivato dalla regione Toscana e rappresenta un tassello fondamentale per l'edificio di Via Trieste, dove a poche ore dal suono della prima campanella si era verificato il crollo del soffitto e del controsoffitto in un'aula. Ieri l'annuncio del rientro in sede per gran parte degli studenti, ad eccezione di quelli dell'indirizzo moda, è adesso un'altra buona notizia. Nello specifico saranno erogati 477.660 euro, consentiranno di mettere in sicurezza alcuni locali e di migliorare dal punto di vista sismico il blocco D del Plesso. Il contributo arriva direttamente dalla Giunta Toscana, che è attinto da risorse proprie a favore dell'amministrazione comunale e proprietaria della struttura, nell'ambito di un pacchetto complessivo per interventi indifferibili ed urgenti sull'edilizia scolastica, da quasi 2 milioni e mezzo di euro varato nello scorso dicembre. La riqualificazione dell'edilizia scolastica è una delle priorità di questa amministrazione regionale, ha spiegato il Presidente Gianni, e il finanziamento degli interventi costituisce una tappa importante del percorso che stiamo compiendo per rinnovare e dare più sicurezza al patrimonio di edilizia scolastica pubblica in tutta la Toscana. Destinare risorse alle scuole non è un costo, ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori, ha poi concluso l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini. Soddisfazione dei consiglieri PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis per la ratifica dell'accordo Stato e conferenza delle regioni per la sanità. Sono infatti in arrivo 4 milioni e mezzo di euro per il nuovo hospice di Arezzo. Fatti concreti, dicono i due consiglieri, e investimenti per il sistema sanitario pubblico. C'è stato finalmente l'accordo in conferenza Stato-Regioni per 61 milioni di finanziamenti ex articolo 20. La regione toscana è una di quelle che ha dimostrato maggiore capacità di spesa, tra l'altro, per l'utilizzo di queste risorse. All'interno di questi 61 milioni ci sono anche i 4 milioni e mezzo per la realizzazione dell'ospice ad Arezzo e per la riqualificazione dell'area circostante del Pionta. È una cosa che ci dà grande soddisfazione perché assieme anche alla collega De Robertis ci siamo molto spesi perché si andasse in questa direzione, perché Arezzo riavesse un hospice lì dove è stato pensato al Pionta. Tra l'altro l'azienda ha già lo studio di fattibilità e quindi appena ci sarà il decreto di conferma di questi soldi potrà essere fatta la progettazione esecutiva e poi l'appalto per quanto riguarda i lavori. I tempi sono quelli della progettazione dell'appalto e della realizzazione però finalmente sappiamo che ci sono 4 milioni e mezzo che sino ad oggi erano un'ipotesi nella programmazione e ora invece diventano realtà. Con il prossimo servizio parliamo ancora di sanità ma in questo caso delle controversie che nascono tra cittadini, pazienti e appunto il sistema sanitario. Per poterle risolvere e non arrivare in tribunale c'è la commissione mista conciliativa, quella nuova si è appena insediata. Si è appena insediata la nuova commissione misto conciliativa dell'ASL Toscana Sud-Est presente anche il difensore civico della Toscana. La commissione mista conciliativa per noi è uno strumento molto importante quindi con oggi cerchiamo di dare un nuovo slancio all'attività che potrà fare. Il suo compito è fondamentalmente quello di mettere vicino, di far comunicare e dialogare il più possibile il paziente che può rivolgersi anche al difensore civico e l'azienda ospedaliere. Quindi in qualche modo restringere quella distanza che a volte si crea tra paziente e sanità. Tra le sue funzioni favorire appunto soluzioni conciliative evitando il ricorso ai tribunali, le lamentele dei cittadini si concentrano maggiormente sulle liste di attesa. È chiaro che se riusciamo a risolverlo con la nostra delibera il cittadino non va più in tribunale quindi è per questo che è una grandissima risorsa. Lo dico sia come avvocato, sia perché ho fatto parte, sia come presidente e come vicepresidente di altre commissioni degli aziende a Fiorentina. Quando una persona deve fare un esame strumentale lo vorrebbe fare il prima possibile perché chiunque di noi ha un problema di salute vorrebbe subito risolverlo. Ci sono una serie di regole che rendono complicato anche se gli standard di Arezzo sono standard comunque medio-alti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Ne fanno parte anche le associazioni che rappresentano i consumatori, i primi ad accogliere le lamentele. Le problematiche ci sono e a volte sono quelle relazionali che in realtà incidono molto nel come si vive, come si approccia e si accede alle prestazioni sanitarie. La sanità toscana è promossa o bocciata dai consumatori? Noi la promoviamo ma con riserva. La sanità toscana è una grande organizzazione, dà tantissime risposte ma assolutamente deve migliorare. Si deve sempre migliorare. Adesso invece parliamo dei tanti lavori pubblici del Comune di Arezzo, i cantieri, che vediamo in giro per la città, uno dei più importanti è indubbiamente quello della cosiddetta doppia canna del Baldaccio. Sono conclusi i lavori del nuovo tunnel e prenderanno a breve il via ai lavori sul vecchio sottopasso la cui conseguente chiusura, che è prevista dal prossimo 29 gennaio fino al 29 febbraio, comporterà il transito nel nuovo tunnel e temporanee variazioni alla circolazione verso Pescaiola e Viale Cittadini prima della definitiva viabilità. Poi dal primo marzo fino al termine dei lavori, che è previsto per la fine di marzo, ci sarà l'apertura di entrambi i sottopassi, uno per la svolta a destra e uno per la svolta a sinistra. Insomma c'è ancora da portare un po' di pazienza per poi vedere appunto questa opera pubblica davvero importante finalmente completata. Non è invece iniziato il cantiere a Saione, ma intanto si sposta il mercato e i commercianti ovviamente protestano. Qual è la problematica che è sorta nella zona di via Ristoro, nella parte bassa diciamo di via Vittorio Veneto? Dovano iniziare dei lavori di rifacimento della zona di Saione e in concomitanza chiudere il parcheggio e mettere gli ambulanti di qua. Solamente che questo non è successo, perché il comune non si è coordinato, secondo me con se stesso, perché non c'è altro sistema. In questo momento che succede? Che la piazza è stata chiusa al traffico, c'è i banchi e purtroppo non sono iniziati i lavori, quindi è un disagio anche per i commercianti soprattutto, perché ovviamente non c'era bisogno di chiudere ora il parcheggio se non sono iniziati i lavori. Prima si iniziano i lavori, si fa il cantiere e poi in concomitanza si chiude e il parcheggio ci si mette gli ambulanti. Questo da subito dopo le feste, quindi i commercianti che sono lì sono un po' tutti arrabbiati, perché ovviamente non stanno lavorando e c'è un disagio anche in questo momento del parcheggio, è un polmone grosso per via Vittorio Veneto quello, quindi io penso che il comune un attimino se ancora non ha deciso di fare i lavori bisogna che riapra quel parcheggio e rimetta gli ambulanti di là e lasci il parcheggio libero, anche perché ieri come ho fatto vedere c'era un ambulante e il parcheggio vuoto, insomma è un po' un problema per noi commercianti. Quindi sono già intanto due settimane abbondanti, siamo in periodo di saldi, quella peraltro è una zona, lo sappiamo insomma, dove i parcheggi non è che ce ne sono diciamo a volontà. Esatto, però devo dire anche un'altra cosa, quando c'era la città del Natale era un parcheggio per la città del Natale, faceva comodo e allora non si è chiuso, cerchiamo anche però di aiutare i commercianti che non hanno usufruito della zona di Natale e dandogli una mano, coordinandosi meglio quando facciamo questi lavori, se no facciamo via Fiorentina 2. Siamo alla pagina della cultura, Alessio Boni e Iaia Forte incantano il pubblico del Petrarca con la loro Iliade. Alessi saputo che finiva così? Così come? Sperai di non perdere la memoria e di non perdere la tua mitica virilità? Prosegue il cartellone della stagione del teatro Petrarca, nato dalla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo Ollus, Fondazione Guido d'Arezzo e Comune di Arezzo. Che ha detto? Il rinche, sono dei versi di rinche. Di chi? Lascia stare cretino! Non cominciare a fare! A calcare la scena Alessio Boni e Iaia Forte assieme in un potentissimo testo, Iliade, il gioco degli dei. I conti con il tuo io, con il tuo se, non li fai quasi mai. Questo mette in scena quel genio di Omero e volevamo farci conti. Sono dei smandrappati, assurdi dei che si riuniscono nel 2023 perché? Perché non sono più in auge, non sono più su un piedistallo di cristallo e vogliono tornare a essere potenti. Quanto dai per vivere l'anno? Quei fatti non furono mai, ma sono sempre. E' molto ironica, prendiamo in giro molto questa insolenza del potere, eccetera, che è la caratteristica di oggi. Cambiano solo le modalità, loro uscivano da una peste, entravano nella guerra delle guerre, sono già in guerra ovviamente, tra Achei e Troiani, e a tirare le fila di questi eroi, Achille, Ettore, Patrocolo, Andromaca e Elena, erano gli dei, si divertivano chi contro i Achei, chi contro i Troiani. Una specie di gioco, il gioco degli dei. Bene, che cosa è cambiato? Siamo usciti dal lockdown, siamo entrati in più guerre purtroppo, e a tirare queste file sono gli oligarchi e l'insolenza dei potenti. Non è cambiato niente, solo la modalità, adesso schiacciano un pulsante e parte un missile, allora almeno avevano il coraggio di affrontarsi con un scudo, lancia, gladio e a petto nudo. Se vuoi una scenata davanti ai tuoi figli, dimmelo che ti ha contento sul riso. Io che faccio la moglie di Zeus, non sono per niente indebolita, anzi non sapete come l'ho tratto, ieri sera una signora qua nel pubblico ad Arezzo, era simpaticissima, era carina, mi ha fatto i complimenti, ho detto, eh ma sono un po' cattiva con mio marito. Le ha detto, non si è mai troppo cattivi con i mariti. Parliamo adesso invece di trasporti, dopo le segnalazioni dei tanti ritardi da parte dei pendolari sul fronte appunto dei treni, la conferenza zonale dei sindaci del Valdarno-Aretino parteciperà insieme alla regione toscana alla cabina di regia con Trenitalia e RFI. Sentiamo. Insostenibile, lo abbiamo detto noi come amministratori di questo territorio, ma lo ha sottolineato con i numeri e con le percentuali anche lo stesso assessore regionale. Gli indici di puntualità di novembre sono stati del 77,1% e di dicembre addirittura del 68,6%. A questo si aggiunge un dato pure particolarmente negativo che è quello della soppressione dei treni. Sono state 135 a novembre e 109 a dicembre. Ritardi e soppressioni dei treni nella linea Firenze-Rezzo, uno di sé è vissuta dai pendolari, cristallizzata adesso dai dati che parlano chiaro. La conferenza zonale dei sindaci del Valdarno ha così incontrato l'assessore regionale ai trasporti. Noi pretendiamo da Trenitalia e RFI un approfondimento sulle cause perché quelle che ci sono restituite sono troppo generiche. È stato lo stesso assessore ad annunciare che la conferenza zonale dei sindaci sarà presente durante i prossimi incontri con Trenitalia. Esiste da un anno e mezzo questa cabina di regia tra Regione Toscana e Trenitalia per quello che riguarda il trasporto in Toscana. Vogliamo essere presenti anche noi come amministratori del territorio a questi incontri. L'assessore ha come dire dato la propria disponibilità e entro una ventina di giorni sarà organizzato questo incontro anche perché Trenitalia sta confezionando un'ipotesi di riorganizzazione del servizio per quello che riguarda il nostro territorio che vogliamo anche noi conoscere direttamente per esprimere immediatamente o il nostro assenso o il nostro dissenso. Lo ha detto anche l'assessore. La soluzione non può essere che i treni regionali siano rinviati nella linea lenta perché questa non sarebbe una soluzione per i nostri pendolari. Quindi vogliamo soluzioni concrete, così come anche un'attenzione particolare all'aspetto dell'alta velocità. Questa situazione è frutto di un proliferare, lo ha sottolineato Baccelli, dei treni di alta velocità e per cui è necessario che la Regione su questo si faccia sentire direttamente un Trenitalia a Roma e chiarisca che un territorio non può essere danneggiato da una situazione di questo tipo. E siamo alla pagina sportiva, iniziamo parlando di motori e del traguardo di Gioele Meoni figlio del compianto campione Fabrizio Meoni alla sua prova alla Dakar 2024. Ho seguito in religioso silenzio, dice il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli e appunto la presenza in questo caso di due castiglionesi ai nastri di partenza di questa Dakar. Paolo Lucci è ritirato quando era ancora in ottima posizione ma oggi ovviamente non può lasciare indifferente il traguardo tagliato proprio dal nostro Gioele Meoni che si è classificato 47esimo assoluto, è arrivato invece sesto nella classe riservata a chi corre senza l'assistenza. In queste immagini lo vediamo proprio sollevare il trofeo e mandare un bacio al cielo in ricordo ovviamente del compianto Babbo. Tuo padre, gli scrive proprio Mario Agnelli, sarebbe fiero di te caro Gioele. Parliamo adesso invece di calcio. Rinovato il contratto con Niccolò Gucci che dunque resterà all'Arezzo in Amaranto fino al 30 giugno 2025. Lo sentiamo con le sue parole. Come ho detto noi dobbiamo fare dei percorsi mirati, sereni e tranquilli. Il rinnovo di Niccolò era all'ordine del giorno già da un po' di tempo, oggi abbiamo dato il tempo di farlo e puntiamo su lui. Tant'altro l'anno scorso ci ha dimostrato l'attaccamento alla maglia, ci ha dimostrato la volontà di stare con noi il più possibile e abbiamo rinnovato ancora per un altro anno. Cerciamo di fare quella famosa scalata tutti quanti insieme e si parte da Gioele Meoni come lui per fare questo. Sono felice, sono estremamente orgoglioso della fiducia che il Presidente e la società tutta mi hanno dimostrato e non vedo l'ora di ripagarla in campo, di aiutare la squadra. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.